Ciao a tutti, sono Teninati, benvenuti su un altro video. Oggi ho tantissime notizie per voi. Parliamo di Big Rami, parliamo di suo allenatore Big James, parliamo di Andrea Presti, parliamo di Gabriele, parliamo di Kribs Bomster, parliamo di suo allenatore. Ci sono diverse notizie per voi oggi. Questo video è veramente, veramente pieno di notizie belli. Comunque, prima di inserire questo video, volevo ringraziarvi tutti voi che mettono mi piace, quelli lì che commentano su ogni mio video e quelli che guardano i miei video da inizio fino alla fine state dando una grossa mano a questo canale. Grazie a voi, per coppa vostra, cresce questo canale ogni giorno. Io sono molto, molto, molto contento. Dovete saperlo perché prima di inserire questo video volevo ringraziarvi perché mi state dando una grossa mano. Però non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video, commentate come sempre, così vi riusciamo a parlare. E così lo so cosa piace a voi e lo so anche a vostra cosa pensate su ogni argomento che porta in questo canale. Mi aiuta molto per capirvi, perché siete tantissimi adesso, per capirvi e così riesco a fare video migliore. Allora iniziamo. La prima notizia per voi oggi è di Andrea Presti. Andrea Presti ha fatto un video con Gabriele Andruli. Non riesco a dire mai il suo cognome, però lui è un Mr. Olympia di Handicap, Mr. Olympia di wheelchair, però voi anche chiamalo Mr. Olympia di Handicap. Quindi lui e Andrea Presti sono già qualificato per Mr. Olympia, perché essendo che lui ha vinto Mr. Olympia, chi vince Mr. Olympia si è qualificato per la vita. Quando tu vuoi gareggiare, anche se tu vai via per 10 anni, puoi tornare senza essere qualificati, sei già qualificato in automatico in teoria quando vinci un Mr. Olympia. Quindi lui ha fatto questo video con Andrea Presti, perché Andrea Presti è sul canale YouTube. Per chi non segue il suo canale, andate a seguire Andrea Presti Italian Blade su YouTube e sul suo canale ha intervistato Gabriele e hanno parlato della situazione di Gabriele, come si è diventato polarizzato, come è successo e tutto. È un video molto molto molto... All'inizio sembra triste, però alla fine è una cosa che ti dà motivazione, che ti spingere che se Gabriele riesce ad alzarsi e a fare cosa ha fatto, ha vincito anche Mr. Olympia, ha fatto Arnold Classic, ha fatto ogni cosa che un bodybuilder voleva fare, quindi lui ha fatto seguendo il suo sogno, anche se è successo questa disgrazia a sua vita, però lui non ha mollato e continua ad andare avanti e questa cosa è molto molto importante. Quindi andate a vedere questo video. Dopo i miei video andate a guardare quello video lì, perché è veramente uno video molto molto speciale. Mi sono piaciuto tanto, quindi oggi ho detto io parlerò di questo bellissimo video. La seconda notizia che offre a voi è di Big Rami e il suo allenatore Dennis James o poi chiamalo Big James. Su Instagram si chiama Big James. Ho visto che loro due sono a Dubai che Dennis James abita in America perché quando Big Rami va in America per fare Mr. Olympia va a casa di Jenny James. Quindi però Jenny James è andato a Dubai dove c'è Big Rami che Big Rami sta allenando a Dubai e è andato lì a allenarlo, ha pubblicato una storia, anche una foto di Big Rami che dicendo che questo anno Big Rami porta un fisico che nessun Mr. Olympia ha mai portato sul parco, che questo anno non sarà nessuno, nessuno può dire oh magari quello lì deve vincere, questo deve vincere. Ha detto che anche adesso come il fisico di Rami, anche adesso Rami salva sul parco Mr. Olympia, vince già però figurati quando arriva Mr. Olympia perché dovete ricordare che ci sono ancora 16 settimane prima di Mr. Olympia. Guardate questi video e foto di Big Rami ogni tanto anche pubblicato sul canale secondo voi? C'è qualcuno che riesce a battere Big Rami questo anno? Sì, pensate che qualcuno riesce a battere Big Rami? Scrivete sul commento sotto. Io anche l'anno scorso, secondo me, questo è il mio pensiero, secondo me Big Rami non doveva anche vincere perché secondo me Hadith Chupan era più tirato di Big Rami, solo ha avuto quei problemi di spalla e quindi, Bom, Big Rami ha vinto perché per la massa anche non è che lui è arrivato non definito, è arrivato definito però di Chupan era proprio fino a ossa si vedeva. Quindi secondo me questo anno Big Rami vuole arrivare molto 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 tirato perché è sempre stato criticato prima per sue condizioni, quindi secondo me stanno lavorando su quello. però io vedo come adesso Big Rami io pensavo che qualcuno riusciva a rubare su posizione però la cosa sto vedendo con tutti questi update dal suo allenatore e da lui secondo me sarà difficilissimo. Devo essere sincero, secondo me non vede chi riesce a vincere Big Rami adesso. Lo so che stanno parlando di Nick Walker eccetera però anche Nick Walker secondo me Nick Walker di questo mio pensiero Nick Walker sale solo in posizione più di anno scorso. Secondo me sarà Big Rami Brandi Cori o come si chiama o Hadi Chupan poi c'è Nick Walker anche dobbiamo vedere altri proibili tipo William Bonack perché William Bonack è tornato in grande forma quindi non si sa però secondo me secondo me sarà quasi come l'anno scorso vincendo Big Rami di nuovo e forse questo è anche sull'ultima Olimpia perché poco fa ha detto qualche tempo fa ha detto che magari questo sarà sull'ultima Olimpia quindi non si sa. La terza notizia che ho avuto per voi è di Chris Bomster sull'ultima Olimpia sull'ultima Olimpia mi e Cal mi sarebbe già sull'ultima U.K. grime lì Doja C.C. 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 great song great tune older one Sniper I don't know the main guy on it but Skepta has a clap on it Man's Not Hot by Big Shaq fucking I Spy the classic everyone knows that one just some U.K. grime Bugsy Malone Stormzy fucking glory days in the U.K. like some Birmingham Bugs I still think the O.G. one is Ain't It Different by Ain't It Different that's true that's probably one of the most famous ones I agree great tune too but yeah we've been jamming with the U.K. grime so it's gonna be a live workout it's gonna be a horrible headache but you know U.K. grime can pull you out of anything but you don't have any trouble but me and Cal would have been so jamming for some U.K. grime lately Doja by C.C. who is it by? Central Sea Central Sea great song great tune older one Sniper I don't know the main guy on it but Skepta has a club on it the man's not hot but Big Shaq fucking Ice by the classic everyone knows that one just some U.K. grime some Bugsy Malone Stormzy fucking glory days in the U.K. like così 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 però ci sono questi voci in giro che dicono che lui ha cambiato allenatore quindi può essere che lui sta lavorando perché lui in questo video dice ho cambiato il modo di allenatore eccetera quindi secondo me si lui vinceva già con quello modo lì che faceva fare il suo cognato perché deve cambiare se non è un allenatore nuovo quindi secondo me a sto punto prima non credevo a sto punto credo che lui si lavora con Harry secondo voi se Chris Bromster fa Open riesce a vincere o ha senso che lui deve fare Open mio pensiero è che non ha senso secondo me lui deve rimanere in Classic fino a quando riesce a vincere secondo me a meno cinque mister Olympia prima di essere battuto Chris Bromster riesce a vincere su Classic poi magari tanti giovani magari può provare anche su Open però secondo me se lui non mette un pochettino di più massa non vincerà Open quindi secondo me sarà una cazzata che se lui vai a gareggiare a Open in questo momento perché lo so che guadagnano di più a Open però adesso sono alzati anche i soldi per Classic perché Classic sta portando un sacco di gente infatti stanno dicendo che quasi quasi Classic sta prendendo il posto di Open fra qualche anno sarà anche così quindi non non vedo tutte queste esigenze di cambiare categoria però magari lui lo so cosa noi non sappiamo e ditemi la vostra se è giusto che lui si si cambia categoria o non lo so ditemi la vostra comunque scrivetevi sui commenti sotto come sempre mettete un bel mi piace commentate su questo video e grazie a tutti per guardare questo video ci vediamo alla prossima video ricordatevi stay ci vediamo ciao ciao ciao